Ben ritrovati al nostro approfondimento. Oggi ci occuperemo di elezioni provinciali perché a seguito della riforma, come sapete, le province sono divenute enti di secondo livello. Significa che i consiglieri e il presidente della provincia verranno eletti da un plotoncino di amministratori, ovvero dai sindaci e dai consiglieri comunali degli enti che compongono il territorio provinciale. Il primo appuntamento si è registrato nella provincia di Vibo Valencia. Le elezioni provinciali sono andate in scena il 28 settembre scorso. Abbiamo già un presidente eletto, un consiglio proclamato a tutti gli effetti. Ma cosa si è verificato? Non sono stati certamente da poco i retroscena, certamente inquietanti, ai quali abbiamo assistito. Partiamo dunque da quel che è accaduto quella domenica, domenica 28 settembre, quando il consiglio provinciale di Vibo Valencia è stato rinnovato. Dunque una nuova amministrazione al termine di due anni di commissariamento che si era reso necessario, lo ricorderete dopo che nell'ottobre di due anni addietro venne bocciato alla giunta uscente il bilancio. Una bocciatura che significò la caduta di quella amministrazione, all'epoca guidata da Francesco Denisi. Oggi si riparte, dopo anni nei quali si è tanto parlato delle province, si è discusso addirittura di una loro possibile abolizione. Le province invece esistono ancora e a Vibo Valencia sono stati eletti dieci consiglieri e un nuovo presidente. Noi li scopriamo insieme in questo servizio che ha realizzato per la nostra redazione Mimmo Famularo. L'Accordoni ha retto. Andrea Niglia è il nuovo presidente della provincia di Vibo Valencia. I pronostici della vigilia sono stati dunque rispettati. Il patto trasversale siglato tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, la lenziana del Partito Democratico e i federissimi dell'assessore regionale Nazareno Salerno ha trascinato alla terzo piano di Palazzo Exenel il giovane sindaco di Briatico, 38 anni, professione commercialista. Sarà lui ad accomodarsi nella stanza presidenziale a guidare l'amministrazione provinciale di Vibo Valencia nei prossimi quattro anni. Lui che simpatizza per Forza Italia ma che precisa non ha tessere di partita in tasca. Ha vinto con il 52% dei voti Andrea Niglia che ufficialmente era capo di una lista civica. Politicamente succede a Francesco Denisi, uno dei suoi grandi sponsor. Ha battuto il censoriano Sergio Rizzo, sindaco di Maierato che godeva del sostegno della segreteria provinciale del Partito Democratico e di alcuni amministratori indipendenti. Cosa che evidentemente non è bastata per cambiare un copione già scritto. L'ex consigliere provinciale non è andato oltre il 31% dei consensi. Più indietro Giuseppe Raffaele che a capo della lista NCD UDC è arrivato fino al 17%. Niglia godrà all'interno del consiglio provinciale di una maggioranza composta da cinque eletti. Si tratta del sindaco di Zungri Francesco Galati, dell'ex assessore provinciale al bilancio Pasquale Fera, dell'ex capogruppo provinciale del PDL Giovanni Macri, del vice sindaco di Sorianello Carmine Mangiardi e del sindaco di Simbario Ovidio Romano, una maggioranza composita. Dietro i banchi dell'opposizione sederanno invece il sindaco di Spilinga Franco Barbalace, quello di Gero Carnevi Italiano Papillo e il consigliere comunale di Vibbo Leo Luca Curello, in quota alla lista non ufficiale del PD. Due i consiglieri provinciali eletti tra le file dell'NCD UDC, Raffaele Scaturchio, vice sindaco di DASA e Antonio Bretti, consigliere comunale di Tropea. Proclamati gli eletti, la provincia dunque è pronta per ricominciare e si riparte da una sorta di anno zero, perché come sapete la provincia di Vibbo Valencia è un ente in dissesto, ma si riparte soprattutto dalle polemiche di una campagna elettorale che si preannunciava interlocutoria e invece si è rivelata ricca di colpi di scena. Tre le liste che si sono contese alla guida di Palazzo Ex Enel, il palazzo che sorge nella città di Vibbo Valencia dentro Contrada Bitonto. E dentro queste liste non sono mancati i problemi. Intanto il primo quesito, quello su un presunto incandidabile, Salvatore Vallone, ex consigliere comunale di Mileto, comune sciolto come tanti altri nella provincia di Vibbo per sospette infiltrazioni della criminalità organizzata. Ebbene, Salvatore Vallone aveva provato a candidarsi alla provincia, era stato inserito nella lista ufficiale del Partito Democratico, una delle tre che componevano il lotto delle compagini destinate a contendersi la guida del palazzo provinciale. Ma pochi giorni prima delle elezioni il consiglio comunale della sua città, quella di Mileto, lo ha dichiarato decaduto. Che cosa significa? Che non essendo più tra gli eletti non avrebbe avuto la possibilità di sedere fra i banchi del consiglio provinciale. E allora la bagarre, lo scandalo, i botte in risposta al vetriolo tra opposte fazioni, spesso, dello stesso partito, ovviamente, il Partito Democratico. Altro colpo di scena, un secondo ritiro, quello di Giuseppe Navarra, sindaco di Rombiolo, candidato in una lista civica alternativa al PD, ma frutto di un accordo trasversale tra i renziani del PD e i partiti del centrodestra, Navarra ha deciso di fare un passo indietro nel momento in cui ha scoperto che il suo partito di riferimento, appunto, il PD aveva una propria lista. Non correrei mai contro il Partito Democratico, ha dichiarato a giornali e televisioni. Una scelta che ha ribadito anche ai nostri microfoni. Sentiamo l'intervista realizzata da Pasquale Motta. Abbiamo cercato di instaurare questi dialoghi all'interno del partito, tra l'area renziana, come l'abbiamo prima definita, è l'area cuperliana, per così dire. All'interno di questa dialettica si inseriva la mia disponibilità alla candidatura, fermo restando che si parlava di queste due visioni, ma che dovevano al massimo confluire in due liste civiche, in due liste che non avevano niente a che fare con i partiti, ma costituiti da amministratori, ripeto, di diverse estrazioni politiche magari, come d'altronde si sta facendo in tutte le province d'Italia, come c'è anche a livello di governo nazionale, dove per l'interesse della collettività magari si fanno questi accordi. Ma sapevo si trattasse di liste civiche, di liste che non facevano parte di partiti politici. Fino all'ultimo giorno, fino alla sera prima della presentazione delle liste, questa era la situazione che conoscevo, anzi anche lunedì mattina ancora non ero a conoscenza del discorso che esisteva, la possibilità che ci fosse il simbolo del Partito Democratico dall'altra parte. Nel momento in cui mattina e lunedì alle due e alla presentazione delle liste mi ritrovo candidato contro il mio partito, mi sento un po' fuori da queste logiche di ragionamento che hanno portato alla Costituzione delle due liste e questo ha portato alla mia decisione di ritirare la candidatura perché io, ripeto, sono sempre stato del Partito Democratico e lo sarò sempre nel rispetto dello Statuto che prevede che non bisogna candidarsi contro il partito. Poi la scelta dei candidati Presidente, una scelta abbastanza agevole per quel che concerne Udc e Nuovo Centrodestra che hanno deciso di correre con il proprio simbolo e in assoluta autonomia da ogni accordo, anzi da ogni inciucio. Tenete ben presente questo termine perché ritornerà più avanti, perché le elezioni provinciali di Vibo Valenza si sono connotate proprio per questo inciucio che alcune testate nazionali di giornale hanno definito addirittura un accorduni. Ebbene, dei tre candidati l'uomo che è stato scelto dai protagonisti del cosiddetto accorduni, ovvero i renziani del PD, gli uomini dell'assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno e il Partito di Forza Italia insieme a Fratelli d'Italia, quest'uomo è il sindaco di Briatico, Andrea Niglia. Proprio lui è diventato domenica sera il nuovo presidente della provincia di Vibo Valenza. Ma sul presente e soprattutto sul passato del nuovo inquilino del palazzo provinciale si addensano parecchie nubi. Non sono mancate le dichiarazioni al vetriolo da una parte della politica, soprattutto da quella parte del PD che in virtù di questa spaccatura con i renziani è rimasta sconfitta e dall'associazione riferimenti, pensate, da Adriana Musella. Polemiche e tensioni che noi scopriamo adesso insieme in questo servizio realizzato dalla nostra Loredana Colloca. Un appello rivolto al prefetto Giovanni Bruno che getta ombre cupe sulle diverse fasi dell'elezione del neopresidente della provincia di Vibo Valenza, Andrea Niglia, sindaco del comune costiero di Briatico. Adriana Musella, fondatrice del coordinamento nazionale antimafia e riferimenti, in una nota stampa diffusa nelle ore successive alla proclamazione del primo presidente dell'era post-commissariale, chiede ufficialmente che venga esaminata con attenzione la relazione del commissario straordinario al comune di Briatico, dalla quale si evince, sottolinea che Andrea Niglia era assessore in carica al comune al momento dello scioglimento per mafia e dello stesso comune è stato candidato a sindaco con una sola lista in campo, la sua. Insomma, da riferimenti arriva una vera e propria denuncia, suffragata anche dall'allarme lanciato poche ore prima dalla consulente della commissione parlamentare antimafia Angela Napoli, che ha preso il risultato delle consultazioni provinciali e aveva dichiarato, trovo davvero assurdo che sia stato eletto il sindaco di un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, mentre su di lui pendeva ancora la valutazione di probabile incandidabilità emessa ad elezioni avvenute. Nello stesso avviso Enza Bruno Bossio, membro della commissione parlamentare antimafia, le vicende del comune di Briatico sciolto due volte per infiltrazioni mafiose, ribadisce la parlamentare del PD e la stessa iniziativa del Ministero dell'Interno che ha sostenuto in sede giudiziaria e l'incandidabilità del neoeletto presidente Andrea Niglia gettano una grave ombra sull'amministrazione provinciale di Vibo Valencia. Dardi infuocati, strali pesanti, al cospetto dei quali Andrea Niglia ha deciso di fare subito chiarezza e così ad alcune ore dalla sua elezione si è ripresentato nella sala del Consiglio provinciale, accompagnato dagli uomini che andranno a comporre la squadra destinata ad amministrare l'ente ma soprattutto con accanto il suo legale. Ascoltiamo questa intervista. È davvero un inizio in salito, un inizio che non mi aspettavo perché delle illazioni, delle diffamazioni che certamente dal mondo politico non mi aspettavo mi sarebbero mai arrivate. Sono delle illazioni, delle diffamazioni, così alquanto becere da una politica che pensavo fosse diversa su questo territorio. Ma oggi mi viene a credere che davvero sono questi personaggi ormai vecchi che non vogliono desistere di aver perso le elezioni e continuano a denigrare il loro avversario. Si parla di una presenza un po' ingombrante nella sua giunta, di un assessore che era già nella giunta Prestia? Nella mia giunta comunale? Costantino Massale è stato sciolto nell'anno 2002, era sindaco ma erano i primi sei mesi della sua amministrazione ma lo scioglimento era dovuto all'amministrazione precedente in quanto l'atto di scioglimento del Presidente della Repubblica è stato chiaro che riguardavano atti e fatti dell'amministrazione, a tutela, a piena tutela degli amministratori in carica. Quindi pare che lui all'interno degli atti, dei fatti e delle relazioni prefettizie non viene per niente indicato. Faceva parte della giunta sciolta ma non era compromesso. Qualcuno ha detto che ci sono dei faccendieri che avrebbero in qualche modo orchestrato e determinato la sua elezione, faccendieri esterni alla politica. E' opportuno che chi ha dato queste affermazioni faccia nome e cognome dei faccendieri che abbiano partecipato a questo progetto politico. E allora Andrea Niglia è stato eletto ma sulla sua elezione pesano inquietanti i sospetti. Tanti dubbi che potrebbero essere passati al setaccio anche dalle autorità competenti. Si vedrà più avanti. Intanto sul piano politico l'elezione del nuovo Presidente della provincia ha creato non poche difficoltà all'interno del Partito Democratico, un partito nel quale si litiga abbastanza facilmente in cui il rapporto, il dialogo, il confronto tra opposte fazioni spesso si trasforma in un regolamento di conti. Cosa è successo nel PD? Ve lo preannuncevamo poc'anzi. Ancora in estate inoltrata la segreteria provinciale avrebbe deciso di proporre alla direzione del partito un candidato. Questo candidato sarebbe stato Sergio Rizzo, sindaco di Maierato. Ma i Renziani non erano affatto disposti ad accettarlo. E allora piuttosto che lottare dall'interno contro questa scelta hanno preferito una strada alternativa. Hanno scelto di sedere a un tavolo una parte del nuovo centrodestra, quella che fa capo, dicevamo, all'assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno, Fratelli d'Italia dell'ex senatore Francesco Bevilacqua e Forza Italia, guidata dalla coordinatore provinciale Domenico Arena e dal consigliere legionale Salvatore Bulzomi. Con loro è stato provato e poi messo a fuoco l'inciucio, l'Accorduni, il patto trasversale che si è rivelato vincente alle elezioni provinciali di domenica 28 settembre. Un patto che ha fatto discutere e continuerà a far discutere, tant'è che acquisito l'esito del voto, proclamati gli eletti, sono partite le dichiarazioni al vetriolo. La prima è stata quella di Francesco Denisi, l'ex presidente della provincia, uno dei registi dell'operazione, che ha portato in consiglio due suoi uomini, due uomini ovviamente di fiducia. Denisi non ha avuto alcuna difficoltà a chiarire, subito dopo aver conosciuto l'esito del voto, che il PD ha perso perché i suoi padri padroni sono stati puniti. Ovviamente chi sono i padri padroni del Partito Democratico? Sono il segretario provinciale Michelangelo Mirabello e il deputato, il parlamentare Bruno Censore. Questa la tesi di Francesco Denisi. Ma in quelle stesse ore arrivava la replica al vetriolo da parte della segreteria provinciale del PD. Se Denisi e Callipo non fossero andati ad ingrossare le file del centrodestra, probabilmente saremmo stati nelle condizioni di vincere anche queste elezioni provinciali. Dunque è loro la responsabilità se per la prima volta il centrodestra arriva a guidare la provincia di Vibo, Valencia. Toni aspri, toni non da confronto ovviamente, ma da scontro. Toni da scontro infuocati anche dai dardi lanciati nelle stesse ore dalla parlamentare del PD vibonese Bruno Censore, che addirittura ha parlato di faccendieri, ha usato dei termini molto forti e ha sottolineato come sarà necessario fare chiarezza rispetto ad un'operazione con tante ombre e pochissime luci. L'operazione che ha portato la lista del cosiddetto inciucio a guidare l'amministrazione provinciale di Vibo, Valencia. Ecco, vogliamo riportarvi le parole esatte di Bruno Censore, che ha detto senza molti giri di parole, ha chiarito come bisognerà ritornare su questa vicenda e si è soffermato sul fatto che chi ha sbagliato dovrà pagare. Il tutto mentre dall'altra parte i renziani chiedevano la testa della segreteria provinciale. Questa sconfitta, questa debacle non può passare inascoltata. Insomma, nel PD si litiga, come sempre, d'altronde è stato. L'altro fronte di battaglia è il nuovo centrodestra, dove da più di un mese ormai si fronteggiano in uno scontro all'arma bianca il commissario provinciale Alfonso Grillo e l'assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno. In effetti i due non si sono mai tanto capiti, ma adesso le tensioni sono sfociate in uno scontro, che dopo le elezioni provinciali è venuto alla luce in tutta la sua durezza, perché Nazareno Salerno, che ha partecipato al cosiddetto inciucio, non è riuscito a fare eleggere nessuno dei suoi tre candidati. Al contrario Grillo è riuscito a portare qualcosa a casa. E allora sono arrivate subito, anche in questo caso, le dichiarazioni al vetriolo. I suoi voti, ha sottolineato Grillo, sono stati necessari soltanto a fare eleggere i renziani. Dunque, anche in questo caso, clima di scontro. Due fronti di battaglia interna ai partiti. E meno male che le elezioni provinciali avrebbero dovuto essere un appuntamento interlocutorio con le urne. Intanto Andrea Niglia si gode la vittoria e subito dopo aver conosciuto l'esito del voto si concede ai nostri microfoni. Noi lo abbiamo interpellato e adesso ve lo riproponiamo. Inizia una sorta di new deal, un nuovo corso per l'amministrazione provinciale di Vipo Valencia, riformata in ogni senso. Riformata da questa nuova riforma, però una riforma che ci aiuta a far ripartire questa provincia. Io tento di dare un'inversione di rotta nell'immediatezza a questa macchina burocratica. Le prime cose da fare. Lei troverà un ente in dissesto con i dipendenti che fino a qualche settimana dietro sono stati in rivolta, stipendi non pagati, disagi? Uno dei punti fondamentali del nostro programma politico è quello di garantire l'occupazione e quello di garantire il cambiamento degli stipendi. La campagna elettorale avvelenata che si è conclusa qualche ora fa ha lasciato degli strascichi o è tutto superato? Devo dire che la campagna elettorale non ha lasciato nessuno strascico, rimango male da alcune testate di giornale che parlano di accordoni quando non c'è stato nessun accordone e nessun inciucio. Alla fine c'è stato un accordo trasparente e libero tra politici. Quindi è normale che Renziani e Forza Italia vadano insieme? È normale come è normale in tutta Italia. Quindi è libera. Sono accordi liberi ma è stato un accordo tra soggetti politici che avevano un unico punto in comune far rilanciare la provincia di Ibovalenzi. Quindi senza nessun interesse in quanto la provincia mi pare che non è rimasto niente più di questa provincia e bisogna di nuovo ripartire. Siamo sotto zero, quantomeno portarla in equilibrio e farla ripartire. Quindi non c'è nessun accordone che poteva portare alla spartizione di che cosa? Di un ente in dissesto. Mi sa che di un'azienda valita non si può ricavare niente. Ebbene la provincia dunque riparte da Andrea Aniglia, riparte dal sindaco di Briatico. Dopo due anni di commissariamento, dopo un lungo periodo in stand by, ma soprattutto dopo una riforma che ha stravolto l'assetto dell'ente intermedio. Ma cosa attende il nuovo presidente dell'amministrazione provinciale di Ibovalenza? Quali prove, quali scommesse aspettano Andrea Aniglia? Da dove si ricomincia? Si ricomincia anzitutto dal dissesto, si ricomincia dagli stipendi da pagare ai dipendenti, si ricomincia da quel tumulto interno che ha contraddistinto i mesi passati. Di sicuro sarà il default finanziario, il fallimento di un ente nel quale non c'è più niente da prendere, ha detto il neopresidente, l'aspetto da curare con maggior attenzione. E chi e tra quanti sono stati indicati dagli elettori a farlo? C'è Pasquale Ferra, pensate, l'ultimo assessore al bilancio della giunta, Denisi. Il primo degli eletti con quasi 90 voti ponderati. E sì, perché il voto attribuito dai sindaci ai candidati è stato moltiplicato per un coefficiente diverso in base alla grandezza dei comuni. E allora i 42 consensi di Ferra si sono trasformati in quasi 90 voti ponderati. Lui, soddisfatto, incassa e soprattutto promette grande attenzione e grande impegno. Lo sentiamo. Quasi 90 voti di preferenza per una competizione alla quale partecipano poco più di 450 persone è indubbiamente un successo. Sì, io ringrazio tutti che mi hanno dato questa importante fiducia. Spero di poterla ricambiare con il lavoro, la dedizione verso questa provincia che sinceramente ha tanto bisogno. Ci metterò l'esperienza, la voglia, il cuore, l'amore che ho per questa terra e spero di fare il bene, certamente con l'aiuto di tutti, perché la provincia in questo momento ha bisogno di tutti. Ha bisogno dei dipendenti, ha bisogno della stampa, ha bisogno di voi, ha bisogno di noi, ha bisogno della comunità nella sua interezza. Lei è stato l'ultimo assessore al bilancio di questa provincia, che al momento si trova in dissesto. Sì, è vero. Io ho fatto circa un anno assessore al bilancio. Mi rendo conto delle difficoltà perché me le ricordo. Spero di continuare a lavorare su quella via, su quella strada che abbiamo intrapreso. Certo, qui c'è bisogno anche di una forza importante per andare a parlare con il governo nazionale, con il governo regionale, perché la provincia di Viva ha bisogno di sostegno e di essere aiutata da tutti. La vostra lista è il frutto di un patto trasversale tra destra e sinistra. Si è parlato di un inciucio e addirittura di un accordoni. No, la nostra lista è un accordo tra persone per bene che hanno voglia e a cuore il territorio della nostra provincia. Hanno voglia di riconquistare e di iniziare questo nuovo percorso. Non è un problema né di accordoni né di inciucio. È un problema di responsabilità, secondo me. Ognuno lo chiama come vuole. Io credo che è un problema di grande responsabilità verso i nostri figli e verso questa terra che è veramente aspre e dura. Ebbene, queste le parole di Pasquale Fera. Adesso l'alleanza trasversale che ha vinto le elezioni, un accordo, lo ricordiamo, passato alla storia come l'inciucio provinciale di Vibo Valencia, questa alleanza dovrà dimostrare di saperci fare. Uomini di area diversa, con idee sostanzialmente diverse, dovranno impegnarsi per garantire un futuro ad un ente, la cui storia non è ancora probabilmente stata scritta fino in fondo. La nuova amministrazione provinciale, soprattutto la maggioranza, che sarà formata da cinque consiglieri, tre apporterranno al Partito Democratico, due all'Udc-Ncd, la maggioranza dovrà dimostrare di saperci fare, dovrà dimostrare di sapersi adeguare ai cambiamenti, dovrà raccogliere le tante sfide che albergano alcune dentro, altre fuori, il palazzo e soprattutto dovrà rimettere nel giro di poco tempo in moto una macchina ferma da circa due anni. Questo è l'imperativo categorico di tutti i cittadini che abitano in un territorio ritenuto il più povero d'Italia, agli ultimi posti di quasi tutte le classifiche, lavoro, occupazione, produttività e non solo. E allora bisognerà ripartire dalle esigenze del territorio come il neopresidente della provincia ha promesso. Bisognerà soprattutto riavviare una macchina che si era inceppata ed era finita in stallo. E bisognerà anche scacciare le nubi che si sono addensate in questa campagna elettorale tutt'altro che interlocutoria sul palazzo provinciale e sui suoi nuovi inquilini. L'appuntamento con il nostro approfondimento si chiude qui. Grazie per averci seguito. Ovviamente noi ritorniamo domani sempre alla stessa ora. Grazie per averci seguito.